Carta, carta legge, carta, 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 scusa. Veramente noi avremmo lavorato oggi, però Villa Panfili, noi siamo giardineri di Villa Panfili e vi hanno spostato qui. No, ce l'hanno avvertito in settimana, però non credevamo che c'era tutta questa roba, infatti siamo rimasti dubbiati. Hanno pulito, stamattina le 9 erano già qua che pulivano, per cui annunciamo tutti i fine settimana, magliette gialle e abbiamo risolto il problema di Roma. Uno non vuole fare la polemica politica, è molto strano che in tutte le zone che il Partito Democratico ha pubblicato fra ieri e stamattina, oggi si sia vista là, ma se chiede a dei cittadini da quanto non vede là, ma non è così frequente. Più pulito rispetto al solito, anche se ovviamente nei luoghi indicati, perché poi se andiamo lì a Maglio e Gelsomini, in realtà c'è un piccolo parchetto, è totalmente abbandonato, probabilmente anche avere annunciato i posti, ha fatto in modo che questi sono coordinati alcuni interventi, che sembra un miracolo romano questo.